Una coppia risulta scomparsa da circa 7 giorni di tempo, si chiamano Karen Coip e Davido, strano come il nome Davido mai sentito. C'è la paura che ci possa essere verificato l'omicidio. La coppia vive a Lacey, in lo stato di Washington, in Stato di America. Si sospetta che però entrambi siano stati fatti fuori da Timothy Burke, quarantenne, pregi in custodia già nella giornata di venerdì da parte delle forze dell'ordine. La polizia non pensa che la coppia fosse ancora trovata viva. Il sospetto infatti è che ci sia stato il contributo di Timothy Burke nell'avere dapprima rapido e poi ammazzato entrambi, cioè Karen e Davido. Secondo la sorella di Coip sia Pauline, Timothy faceva dei lavori in casa, come per esempio il manovale, si occupava di fare dei piccoli lavori. E quindi diciamo che l'uomo non avrebbe saldato il prezzo dell'affitto. Va bene? Una vicenda questa incredibile e che getta una luce triste e assurda sull'istate in America. Ok, grazie a tutti. Il video termina qua. Iscrivetevi, commentate. Speriamo che la coppia sia ancora più.